Borgo Più, protezione, inclusione e unicità è il progetto sviluppato per il comune di Alanno dal Dipartimento di Architettura dell'Università d'Annunzio di Pescara e da 10 laureandi del Laboratorio di Laurea all'Invenzione dell'Unicità tenuto dal professor Enzo Calabrese. Il progetto che si avvale degli input dell'Associazione Vittoria Città dei Ragazzi e della supervisione del Direttore del Dipartimento di Architettura Lorenzo Pignatti mira a favorire l'inclusione e l'autoassistenza rendendo accessibile e fruibile da tutti il borgo di Alanno. Questa mattina nella Sala Tinozzi della provincia di Pescara sono state discusse le 10 tesi di laurea sperimentale al centro del progetto. Gli studenti si sono entusiasmati, hanno lavorato con grande impegno, grande dedizione e il lavoro che viene presentato oggi lo dimostra. Non sono tesi normali, sono tesi che nascono dall'entusiasmo di persone, dal coinvolgimento che questi studenti hanno sentito e quindi hanno partecipato in maniera molto intensa al lavoro e fondamentalmente cosa ne avrà? Purtroppo noi molto spesso nel Dipartimento di Architettura facciamo tesi ma rimangono poi sulla carta. Qui c'è veramente la volontà di realizzare un sogno, quindi quasi mi viene da dire che queste tesi sono già quasi una realtà perché credo che ci siano le condizioni tali che se non tutto ma molto di quello che abbiamo visto oggi nella sala potrebbe essere realizzato. Quindi realizzare un sogno e questo devo dire per noi del Dipartimento, per noi docenti ma anche per i studenti è una condizione unica. Pignatti spiega anche l'idea di città che è al centro del progetto Borgo Più e che troverà concreta applicazione ad Alanno. Una città inclusiva, purtroppo i nostri centri urbani e soprattutto i centri antichi hanno dei centri storici, hanno delle difficoltà. Questa è una città inclusiva, è una città aperta, è una città aperta sul territorio e poi c'è una grandissima valenza ambientale, cioè è una città che si costruisce nel terreno, è una città che poi fondamentalmente ha edifici che sono tutti coperti dal verde, quindi è una città che si mimetizza nel territorio, che diventa parte del centro di Alanno ma al tempo stesso parte del territorio e si apre verso il territorio.